L'esercito russo ha bombardato obiettivi civili nella città di Kosteantinica, centro industriale vicino a Bakhmut, l'Ucraina orientale. Ne si tratta di uno snodo cruciale per rifornire l'esercito ucraino al fronte. Bilancio dei bombardamenti di diversi morti e una decina di feriti gravi. I numeri sono apparsi nella dichiarazione rilasciata su Telegram dal capo di gabinetto di Zelensky. L'attacco ha centrato una zona residenziale nel centro cittadino provocando devastazione e morte. Un missile ha creato un grande cratere. Kosteantinica si trova a soli 20 km ad ovest di Bakhmut. Nella zona non ci sono obiettivi militari. Le esplosioni hanno scosso domenica anche Melitopol, occupata dai russi, ha detto il sindaco ucraino della città meridionale. Le esplosioni hanno preso di mira il locale deposito ferroviario.